salve ben ritrovati nel mio canale per questa nuova video ricetta video ricetta di un liquore si in questo periodo mi sto cimentando nei liquori alcuni già fatti altre volte questo invece la prima volta che lo preparo è su composizione di mia inventiva ho preso solo un po di spunto ma trovandomi a casa la pasta di pistacchio ho voluto fare questa variante di liquore invece di utilizzare interamente la crema di pistacchio metà una parte di crema di pistacchio una parte di pasta di pistacchio così per dare un aroma ancora più intenso al liquore ma andiamo subito agli ingredienti zucchero panna vegetale e uso questa latte questo a lunga conservazione poi come dicevo prima pasta di pistacchio e crema di pistacchio in più alla fine l'alcol a 95 gradi questo qua è l'unico ingrediente che verrà utilizzato per ultimo a base completamente raffreddata rispetto alle altre volte in cui vi ho fatto vedere come fare un liquore questa volta utilizzerò il monsieur cousine plus una sorta di bimbi quindi se avete il bimbi potete utilizzare il bimbi se avete il monsieur cousine potete utilizzare questo oppure una semplice pentola ecco un pentolino giusto perché serve per scaldare la base i liquidi con lo zucchero e nient'altro quindi non è una preparazione che io faccio per comodità così con il monsieur cousine però si può preparare benissimo in sul fuoco quindi aggiungo lo zucchero dove ho dimenticato prima di dirvi che ho aggiunto anche della vanillina poi tutti gli ingredienti procedimento lo troverete giù nella scheda informativa per leggere vi basta cliccare sul titolo del video e si si aprirà la tendina la panna il latte la crema di pistacchio la crema di pistacchio posizionato il boccale sulla base del robot ho inserito il tappo il misurino non l'ho avvitato l'ho lasciato così a spiffero e adesso imposto la macchina a 6 minuti 100 gradi velocità 3 se si volesse fare questa ricetta con sul fuoco con una pentola basta portare a bollore per 5 dunque far bollire per 5 minuti sempre mescolando quindi premo qui avvio ci vediamo tra i 6 minuti sono trascorsi 6 minuti adesso aspetterò che il composto raffreddi completamente prima di aggiungere l'alcol se non è freddo completamente non bisogna aggiungere assolutamente l'alcol altrimenti evaporerà la base del liquore è completamente raffreddata quindi aggiungo il l'alcol ho rimesso il tappo sul boccale e in più anche il misurino ben avvitato perché adesso andrò a mescolare il tutto e quindi voglio evitare schizzi all'esterno se è fatto a mano questo procedimento basta mescolare la base del liquore con l'alcol con un mestolo una frusta un cucchiaio l'importante amalgamare bene i due composti quindi io con il monsieur cousine imposto anche 20 secondi giusto per mescolare no niente gradi velocità 6 e avvio ecco il liquore pronto da imbottigliare e tenere in frigorifero così da consumare bello fresco ed ecco qui il liquore imbottigliato e messo un po in un bicchierino da servizio per farvelo vedere ovviamente bisogno che si faccia un po riposare almeno una settimana per sentire al meglio tutto il sapore del pistacchio ma è buono anche così si sentirà di più l'alcol in questo momento come per gli altri video di liquori che ho fatto di recente anche per questo consiglio magari di prepararlo per per un regalo fai da te in occasione di queste festività natalizie ormai in giro si vedono tante in vendita tante bottigliette simpatiche la mia è una casalinga perché comunque non è previsto che lo lo faccia al momento per regalarlo perché è stata una prova una prova che dal risultato per me è stupefacente e quindi adesso provvederò a comprare tante bottigliette carine e per natale questo sarà saranno i miei regali tanti liquori fai da te magari accompagnati anche da dei biscotti oppure da preparati per fare delle ricette dei barattoli ricette in barattolo come si chiamano ricette che trovate sempre qui nel canale e dei regalo che trovate sempre qui nel canale bene vi saluto qui noi ci rivediamo presto con altre ricette a presto con altre ricette con altre ricette con altre ricette